Con le restrizioni aumentano i disturbi alimentari tra i giovani, oltre 150 in cura con l'Ausle Romagna, l'aiuto ora online con ottimi risultati. Con la pandemia e il lockdown sono aumentati i disturbi alimentari fra i più giovani, ce ne parla Serena Biondini. Ciao Rachele, buongiorno. Oggi nel piatto che cos'hai? Fammi un pochino vedere. Ho fatto il salmone e ho i cracker. Una videochiamata al computer, da una parte dello schermo la nutrizionista, dall'altra la giovane paziente. Si chiama pasto assistito telematico e serve ad accompagnare chi soffre di disturbi alimentari nella scelta e nel consumo del cibo. Il salmone non so se oggi riesco a mangiarlo tutto. Va bene, non c'è problema. Cerchiamo però allora di mangiarlo almeno mezza porzione. Prima della pandemia i pazienti venivano a mangiare qui nella Casa della Salute di Forlimpopuli. Ora i pasti assistiti si sono trasferiti online e sono diventati ancora più efficaci. Abbiamo notato che lasciare il paziente in un contesto in cui si sente più tranquillo di svolgere il proprio pasto ci permette di essere più incisivi proprio dal punto di vista del trattamento. Anoressia, bulimia, disordini alimentari, 500 le persone in cura nella USL Romagna. Con la pandemia i casi sono aumentati del 30% e si sono aggravati, soprattutto tra i giovani, in didattica a distanza. Provano un fortissimo disagio perché tutto il loro mondo è circoscritto all'ambiente domestico. Le ansie che loro vivono si trasferiscono immediatamente sul corpo. La disponibilità costante di cibo, in frigorifero o in dispensa mette in crisi chi non riesce a controllarsi o all'opposto si controlla troppo. L'invito è non sentirsi soli. Non nascondersi, non evitare il problema. Ci sono persone che possono dare loro un aiuto. Si conclude questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione regionale tornerà questa sera sempre alle 19.35 su Rai3. Grazie a tutti per essere stati con noi. Buona giornata e arrivederci. Grazie a tutti.